La ricca di arte e beni culturali, però negli ultimi tempi il settore è stato bloccato. Quali saranno gli itinerari previsti per la città etnea? Sono quelli culturali, della strada degli scrittori, del treno dei castelli. Catania ovviamente è uno dei comuni che riteniamo al centro dell'offerta turistica siciliana, indietro il numero importante di posti letto, il rapporto con i porti e gli aeroporti, quindi confidiamo molto nell'offerta turistica catanese per rafforzare tutta quella siciliana.